A circa 20 giorni dalla sua esclusione dalla giunta di Seravezza, per non aver firmato la conciliazione con cui il Comune ha ceduto per un milione di euro parte dei siti estrattivi del Monte Altissimo e del Monte Pelata alla ditta in Ro, l'ormai ex assessora Vanessa Bertonelli ha deciso di esporre le sue motivazioni, a partire dal pensiero politico che ha sempre avuto sulla questione, anche nel precedente mandato. Sì, il mio pensiero politico al sindaco l'ha sempre eseputo fin dalla campagna elettorale, lo sapeva benissimo anno scorso quando c'è stata la prima votazione per quanto riguarda il tema dell'erro e lo sapeva ora per questo ultimo consiglio comunale, quindi dal punto di vista politico la mia posizione era che la proprietà delle montagne rimanesse in capo al Comune, però la società erro potesse continuare a scavare, però secondo un certo tipo di regolamentazione che secondo me non era questo della conciliazione. Entrando nel merito della vicenda, uno dei punti maggiormente contestati dalla Bertonelli è quello della cifra stabilita e delle modalità di pagamento da parte della ditta nei confronti dell'ente. Si parla di un milione di euro, ecco allora questo milione di euro come è stato deciso è stata fatta una stima per arrivare a questa cifra di un milione di euro e poi un milione di euro viene praticamente rateizzato in dieci anni, quindi sono 100 mila euro l'anno, però non c'è nessuna garanzia tutela del credito, non c'è nessuna fideiussione, quindi questi 100 mila euro che ogni anno il Comune dovrebbe ricevere non sono garantiti, inoltre non c'è neanche inserita in conciliazione una rivalutazione.